buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi in questo tutorial andremo a vedere come comprare polidoge ma vale per qualsiasi altra cripto valuta qualsiasi token questo procedimento tramite bainas martin e utilizzando un ponte che lo colleghi alla poligon matic network e al suo exchange decentralizzato è una cosa molto semplice è più facile a farsi cadersi andiamo a vedere subito questo funzionamento dopo la sigla supponiamo di aver già collegato metamask alla poligon matic network block chain come vi ho mostrato in un video precedente ma vi lascerò insomma impressione quel tutorial allora supponiamo di aver già fatto questo passaggio quindi ci colleghiamo su bainas e andiamo su prelievo andiamo in alto a destra wallet spot dobbiamo avere usdt nel portafoglio arrivati a questa schermata facciamo prelievo andiamo a selezionare usdt ovviamente per collegarci da bainas martin a poligon matic network dobbiamo avere settato anche metamask per la bainas martin vi lascerò comunque anche questo tutorial in sovrimpressione facciamo l'accesso a metamask come rete principale ci darà eterium noi clicchiamo su rete principale andiamo a mettere smart chain coppiamo l'indirizzo torniamo su bainas lo andiamo inserire lo andiamo a incollare alla voce indirizzo alla rete selezioniamo la bsc quindi la bainas martin selezioniamo l'importo che vogliamo inviare in questo caso io invio il massimo e clicco su prelievo ok compilo i dati richiesti per la sicurezza e clicco su invio e qua sotto sempre su bainas puntocom vedo i prelievi recenti dove questo di usdt sta per essere approvato ora che abbiamo inviato i nostri usdt a metamask collegata alla bainas martin per pagare le figli di quel wallet di quegli spostamenti dobbiamo anche avere una piccola quantità di bnb quindi qualora non avessimo bnb su metamask bainas martin dobbiamo inviarlo come si fa clicchiamo qua sulla moneta scegliamo bnb andiamo su metamask metamask controlliamo che sia sempre collegato alla bainas martin e clicchiamo su bnb in alto a destra dettagli account copiamo chiudiamo il wallet all'inizio alla voce inserisce indirizzo incolliamo il wallet che abbiamo appena copiato ci dà semaforo verde e scegliamo la quantità di bnb che vogliamo inviare mettiamo 0,05 clicco su prelievo e faccio lo stesso procedimento di prima andiamo a completare queste voci e poi viene bici saranno recapitati sul nostro indirizzo di metamask bainas martin perfetto ora che i nostri usdt e i nostri bnb sono stati inviati a metamask bainas martin ci dobbiamo collegare su un bridge su un ponte che si chiama x pollinate all'indirizzo x pollinate punto io si aprirà questa schermata facciamo connetti wallet metamask diamo ovviamente l'ok alla firma perfetto arrivati a questa schermata andiamo a selezionare la block chain quindi selezioniamo baina smart cene perché noi stiamo inviati stiamo inviando dei fondi dalla baina smart cene tramite metamask e vogliamo inviare alla matic my net ovviamente è la polygon mattin network selezioniamo la nostra valuta usdt qua sotto ha già preso il nostro indirizzo da metamask facciamo swap diamo l'ok e attendiamo arrivati a scuola sta schermata mettiamo massimo usdt come vedete qua c'è scritto baina smart chain a matic my net clicchiamo su swap colleghiamo selezioniamo le fi e vanno bene queste di default e tendiamo la transazione perfetto trasferimento avvenuto con successo e adesso possiamo chiudere tranquillamente a questo punto possiamo andare sul sito anche quell'italiano polidoge italia andare su compra polidoge si aprirà quick swap che non è altro di una sorta di pancake ovviamente dedicato alla polygon chain diamo l'ok in alto a destra clicchiamo su il nostro metamask e andiamo a settare matic network perfetto come vedete ci vengono riconosciuti 54 dollari quello che io inviato e se avete notato c'è anche una piccola porzione di matic 0,001 che ci vengono dati la prima volta che facciamo uno swap per pagare le fee su quick swap ricordiamoci che per tutte le altre volte dovremo avere una porzione di matica all'interno di metamask sezione matic network chain per pagare le fidi matic a questo punto facciamo massimo approvo questa è la tra la fi di transazione su rete matic polygon sono bassissime non viene neanche riconosciuto il valore in dollari confermiamo swap diamo la firma perfetto e in questo caso noi abbiamo acquistato polidoge e ce li ritroveremo su meta mas che nella sezione ovviamente di polygon matic network block chain andiamo a controllare su meta mask vale lo stesso percorso se non troviamo il nostro token direttamente all'interno di meta mas che dobbiamo aggiungerlo quindi cosa facciamo andiamo su polidoge copiamo l'address torniamo su meta mask vedete che qua c'è scritto matic network aggiungi token indirizzo ci viene riconosciuto in automatico sia al simbolo che i decimali clicchiamo su avanti aggiungi token torna indietro e o polidoge su meta mas che rete matic network bene siamo arrivati anche per oggi alla fine nel nostro consueto appuntamento spero che questo video vi sia stato utile l'abbiate trovato semplice e interessante vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatta supportarmi con dei commenti e con dei like e se avete voglia unitevi anche alla nostra community telegram per fare due chiacchiere insieme a noi noi ci vediamo domani ciao